Credo che questa sera confermiamo qual è la volontà della nuova amministrazione, quella di rilanciare un po' la voglia di fare coinvolgendo tutti i settori produttivi di balestrade, l'associazionismo, il volontariato. L'Auser questa sera dà una dimostrazione di quanto abbiamo fatto in questi due o tre mesi di attività amministrativa considerato comunque abbiamo avuto dei problemi rispetto a quanto era stato programmato siamo riusciti comunque a dare forza a obiettivi importanti, abbiamo fatto un'estate entusiasmante abbiamo accontentato un po' tutti i palazzi, tutte le esigenze di chi vi legge a balestrade, di chi vive nella nostra città e comunque non finisce qui perché ancora l'estate non è finita, avremo gli ultimi eventi che arriveremo a conclusione quindi l'estate volgerà al termine con la festa del Santo Patrono, la doverata, anche lì avremo tre giorni di grande festa e dopodiché tireremo le somme, ma comunque credo che tutto sommato sta andando molto bene le nostre previsioni sono state rispettate, abbiamo già davanti un autunno, un inverno per poter programmare con serenità per poter prevedere una finanziaria adeguata alle esigenze di balestrade perché guardiamo affinché balestrade possa davvero risvegliarsi, vogliamo risvegliare le coscienze di balestrade delle attività produttive, di chi vuole investire a balestrade, daremo forza a quanti lo vogliono fare quindi le nostre previsioni sono ambiziose, un bilancio di previsione che sarà proprio improntato su quelli che sono i grandi obiettivi che vogliamo raggiungere affinché balestrade possa davvero svilupparsi, affinché si possa davvero programmare uno sviluppo sostenibile del territorio è naturale che vorremmo particolare attenzione per quanto riguarda il settore turistico e attorno a questo e tutti gli altri, quindi il settore commerciale, artigianale e quant'altro è utile affinché balestrade possa davvero avere un ruolo importante nel nostro territorio fra l'altro credo che non bisogna dimenticare che Balestrade occupa una posizione strategica del Golfo di Castellammare Balestrade si deve riprendere il ruolo importante, un ruolo trainante in tutto il territorio, in tutto il Golfo di Castellammare